Il rombo del controllo Lamborghini della Huracan Super Trofeo di Trentin contro il rombo che proviene da Maranello nella vettura di Roberto Ragazzi. La partenza di questa sfida, Trentin contro ragazzi e ragazze, che ha portato la Huracan a sconforsi addirittura in fase di Aprilio, ha sicuramente perso qualche unesimo passaggio. Il rombo del controllo Lamborghini della Huracan Super Trofeo di Trentin contro il rombo che proviene da Maranello nella vettura di Roma. Grazie a quel piccolo errore, in partenza se qua... Oh, è stato girato! ...e che deve vedere che possono determinare queste perdizie di aderenza a quelli che nasce di scopertutto, che è meglio di dire che ora in presenza, a risicolata con la tua provincia e a tanti problemi. Il problema è proprio nel trovare sia il Vidi con la pista, sia soprattutto il Vidi con la pista, sia soprattutto il Vidi con la pista. Il Vidi è andato in questa volta a prenderne il Vidi con un tipo di esitazione e cercherà di prendersi la rivincita sulla Ferrari di ragazzi. Il Vidi è passato dalle Opel sempre più su, sempre più con vetture importanti. Il Vidi è andato alla linea, a spionare le protezioni nella retta opposta a quella della tribuna principale. Grazie per la visione!